Oggi parleremo di filtri, che sono una tecnica che permette di esprimere una trasformazione dell'output che deve essere visualizzato, con una sintassi davvero leggera e un conseguente e innegabile vantaggio in termini di facilità di lettura del codice. Facciamo confronto, vediamo come ottenere lo stesso risultato, prima utilizzando due metodi, questi. Nulla di che, il primo è un wrapper, cioè alla fine restituisce una stringa dopo aver richiamato il metodo che già esiste di javascript, topper case, per mettere in maiuscolo tutti i caratteri. La funzione no spazi, il metodo no spazi, sostituisce ogni spazio, con questa espressione regolare di ricerca, in tutta la stringa, cambiandoli in underline. volendoli applicare in cascata, si scrive questo, per il quale non dobbiamo certamente gridare lo scandalo, come chissà quale complessità e poca chiarezza di lettura, però si può fare di meglio. Sarete d'accordo con noi che questo è davvero liscio, liscio come l'olio, come lettura, bello chiaro. Sono i filtri. Questo simbolo è il pipe che serve, chi ha qualche esperienza di Linux e Unix, lo sa, per convogliare l'output di un comando che diventa l'input del successivo. Significa che MSG diventa l'input per il filtro no spazi e il risultato di no spazi passato come input al filtro upper. Si dice che abbiamo concatenato i filtri. Commentiamo la parte dei metodi, fate primo copia e incolla, magari, e poi cambiate method, mettete filters. Le funzioni poi sono ancora quelle. Andiamo a verificare che i due filtri in cascata abbiano fatto il loro dovere. Ecco qua. Davvero eleganti e leggeri questi filtri. Non c'è alcun problema anche ad aggiungere ulteriori parametri ad un filtro. Qui potremmo prevedere la possibilità di specificare con quale carattere andare a sostituire lo spazio, ad esempio. Diciamo il cancelletto, andiamo nel filtro, aggiungiamo qua il parametro in più che andremo a sfruttare qua. Semplice. Infine i filtri sono tanto più utili quanto riutilizzabili a livello globale nel vostro progetto, il che significa registrarli prima dell'istanziazione dell'oggetto view. Coppio commento, mi sposto poi in main.js, prima dell'istanziazione dell'oggetto view. E andremo ad aggiungere in sequenza i due filtri globali. Penso che il codice sia autoesplicativo. Il primo parametro è l'identificatore che poi servirà ad applicare il filtro, e il secondo è la funzione che svolge. Ultimo in particolare, non siamo limitati all'interpolazione, possiamo infatti sfruttare i filtri anche con le direttive bind. Una cosa del genere per intenderci. Bene, anzi male, perché è arrivato proprio il momento di salutarci. E devo dire che ne è uscita una signora introduzione, che in diversi passaggi potremmo anche considerare qualcosa di più. Il mio ringraziamento, oltre a voi che ci avete seguito, siete rimasti 300 come gli spartani alle Termopili. Va, naturalmente, anche a Giovanni, senza il quale chissà quando avrei potuto cominciare e soprattutto terminare una playlist come questa. Sono infatti numerevoli le volte in cui mi ha sbloccato su particolari con i quali, non lavorandoci tutti i giorni con view, mi sarei forse perso. Grazie e a risentirci magari su un'altra playlist.